Vorrei veramente ringraziare queste persone meravigliose, non solo sono dei campioni, dei grandi professionisti, ma sono diventati un'anima bella, gioiosa di fare questo posto. Vi saluto, vi ringrazio, ci faranno parlare, so che alcuni di voi ci faranno vedere dei numeri. Spero che non abbia diventato troppo vecchino, perché l'anno scorso di farsi un po' più astutti. Per cui guarda le mie amiche braverine in perl'angolo, siete pronte, scaldate? Dovete farvi scaldare di là o siete ok? Siete ok. Vorrei veramente ringraziare questi amici meravigliosi che ogni sabato sono qua e si dedicano con passione a voi, a noi, per regalarci un po' di maggioranza, a uno sfinto un po' diverso da quello che si fa in tanto. Quindi vorrei ringraziare Maria Segoni. Davide, di che si sbaglia sempre il punto. Roberto Imperatori. Marcella Piccini, grazie, grazie di cuore. Grazie ragazzi, vi vogliamo vedere parlare tra pochissimo. E allora mancano solo un segno che è lo scorpione, giusto? Quanti scorpioni? Non sono scorpioni, non ci credo. Allora non lo facciamo. Allora basta, ciao agli scorpioni. E' anche lo scorpione. Uno scorpione, eccolo quello. Il scorpioncino c'è. Sì, magari mi pare di aver visto. Scompione? Perché si nasconde sempre lo scorpione? E' il segno dell'occultamento lo scorpione. Qui si stava un po' nascondendo. Che succede allo scorpione? Lo scorpione è che, come dicevamo prima, per il po' lo attivo un sospensione, perché non c'è più il Saturno, il Saturno che esca il tipo di utilità. E con il scorpione, non c'è più che è confuso. Non c'è più che è arreggamento. C'è anche una signora. Facciamo a mano i 10 minuti per ogni, in faccia. Venite qui, scorpioncine. Scorpione o scorpione? Allora, lo scorpione, forse, fino a metà agosto, e ancora come frase un po' come dire, di passaggio. C'è una foto. Grande rappresentante dell'esercito, delle istituzioni, quello dello scorpione. Buonasera, io sono un amico di molti social qui, di Antonio Simone, di Mauro Pozzini, di Gianni Marini, di tanti altri che sono. Quindi sono un amico di tutti. ciao.